Allora signori, abbiamo lavorato tutto il giorno, è il momento della locura, motore! E andiamo a girare signori! Azione! Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assardante, per non cadere dentro al buco nero, che è stato un passo da noi, da noi, più o meno.